Siamo arrivati alla parte 2, che ho intitolato il diritto d'autore degli enti pubblici. Non confondetevi con il titolo della nostra lezione più generale, perché vedete ho messo in evidenza la D, non è il diritto d'autore negli enti pubblici, che sono due temi diversi. Il diritto d'autore negli enti pubblici implicherebbe una riflessione su come vengono gestiti i diritti, ad esempio, dei dipendenti pubblici, degli incaricati esterni, degli architetti che fanno il progetto per il piano regolatore, che sono degli studi professionali esterni. Quindi quella sarebbe una lezione interessantissima, ma mi è stata chiesta una lezione in realtà sul riutilizzo dei dati pubblici, quindi i dati della pubblica amministrazione esposti e utilizzati da terzi, dai cittadini o dalle aziende. Quindi vogliamo capire in questa parte qual è il diritto d'autore che è esercitato dagli enti pubblici. Cioè, quale tipo di diritto d'autore viene riservato agli enti pubblici dall'ordinamento giuridico italiano. Ve l'ho già detto, l'articolo 5 è quello qua. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. Ed è l'articolo che in Italia, diciamo, è il riferimento principale. Allora, attenzione al fatto che dice testi degli atti ufficiali, occhio, perché va interpretato in senso restrittivo. Cioè, testi, non ha detto di tutte le opere dello Stato e delle amministrazioni, ma dei testi. Vuol dire che se, gli esempi che vi ho fatto prima, purtroppo non funzionano bene, perché la sentenza è un'opera che è un testo, per definizione. Ma se noi parliamo della, che ne so, brochure realizzata dall'ufficio turismo di un comune, che ha dentro immagini, che ha dentro la grafica, ok? Quella roba lì non è solo testo. Quindi bisogna stare attenti e non cadere nell'equivoca che tutto ciò che è prodotto dallo Stato o dalla pubblica amministrazione sia automaticamente pubblico dominio. Perché altrimenti, allora, vorrebbe dire che, se fosse così, anche, che ne so, tutto ciò che è prodotto dalla RAI, no? I programmi televisivi della RAI sono di pubblico dominio. Invece vi sfido a provare a mettere su YouTube l'intera puntata di una fiction RAI o di un programma, o anche solo del TG, no? Perché scatta una segnalazione di diritto d'autore, di copyright. Perché la RAI ha, legittimamente, un copyright sulle sue opere. Quindi noi parliamo dei testi e degli atti ufficiali. La brochure dell'Ufficio Turismo del Comune X non è un atto ufficiale. È un atto che viene fatto per scelta strategica di promozione turistica del territorio. Ma non è un atto ufficiale. L'atto ufficiale è la delibera del sindaco, è il verbale del, che ne so, del Consiglio Comunale o delle votazioni in Consiglio regionale, via dicendo. Cioè, gli atti ufficiali. Abbiamo poi un altro articolo che va citato, che è l'articolo 11, sempre della stessa legge 6.3.41, che dice alle amministrazioni dello Stato, alle province e ai comuni, spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e al loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta gli enti privati che non perseguono scopi di lucro, salvo di verso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché all'Accademia e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e delle loro pubblicazioni. e quindi voi sarete un po' disorientati e direte ma come? Prima ci ha detto che si può, che non c'è diritto d'autore, invece qua ci sta dicendo chiaramente che c'è un diritto d'autore. Ma per quello che dicevo prima, cioè l'articolo 5 va interpretato in senso super restrittivo, cioè solo i testi degli atti ufficiali. Tutto il resto, come vedete, crea un diritto d'autore a favore dell'ente pubblico, dell'amministrazione dello Stato, delle province e comuni, via dicendo, e anche agli altri enti pubblici culturali o meno. E infatti, nota bene, le due norme sono solo apparentemente in contraddizione e la giurisprudenza e la dottrina giuridica hanno mostrato una tendenza a interpretare in modo molto restrittivo l'articolo 5, quindi rigorosamente testi e atti ufficiali. E allora, cominciamo a parlare di dati però, perché qua, fino adesso gli esempi che vi ho fatto sono legati alle opere in senso più classico, ai testi, abbiamo detto, oppure alle immagini, oppure alla grafica, ma quando parliamo di dati, cioè il dato crudo, non so, una tabella in formato CSV o, non so, Excel, XLS, via dicendo, con dentro dei numeri, delle, delle, non so, oppure ecco, un classico esempio di dato pubblico, gli orari degli autobus, gli orari di apertura delle farmacie comunali, quelli sono dati, cioè non è un'opera creativa, sono delle tabelle con dei numeri, con i giorni, con, che ne so, la geolocalizzazione della fermata dell'autobus, e sono dati. E c'è un copyright su questa roba qua? Allora, attenzione, perché a ben vedere, come scrivo in questa slide, non sono i dati in sé ad essere tutelati, ma le banche dati, cioè il dato crudo, cioè la singola informazione estratta, il singolo numerino, in realtà non appartiene davvero a nessuno, cioè il fatto che, non so, io vi dica che, in via Garibaldi 12 a Sesto San Giovanni, l'autobus passa alle ore 14.32, quella singola informazione non appartiene a nessuno, perché può essere anche registrata da chiunque, cioè io vado lì 3-4 giorni a fila, e constato, anche senza aver letto la tabella, che l'autobus passa davvero a quell'ora lì, ok? Quindi il singolo dato non appartiene a nessuno, diventa di proprietà intellettuale, con due grosse virgolette, mi raccomando, cioè assume una tutela simile a quella del copyright, nel momento in cui questi dati vengono raccolti e organizzati all'interno di una banca dati, ok? All'interno di un dataset, o database più propriamente, la legge italiana parla di banca dati, gli informatici tendono a distinguere dataset con database, perché database si confonde anche col software, che è l'architettura di gestione dei dati, vabbè non entriamo in queste questioni, che non sono di competenza mia, di giurista. Comunque in altre parole vedete, i dati sono tutelati solo in quanto aggregati e organizzati in un database, in una banca dati, e solo se questo database ha richiesto un rilevante investimento per la sua realizzazione. Questa cosa che vi sto dicendo, si riassume e semplifica molto, uno dei nodi più ostici del diritto della proprietà intellettuale, del diritto copyright, proprietà industriale, a seconda di come lo vogliamo chiamare, cioè quello del cosiddetto diritto sui generis, sulle banche dati. Cioè le banche dati sono una, fra virgolette, una bestia un po' strana, che viene tutelata sia con un diritto d'autore, in senso più classico, sia con un diritto che l'ordinamento giuridico chiama diritto sui generis, proprio perché è un diritto talmente diverso rispetto a tutti i diritti di utilizzazione che prima l'ordinamento conosceva, per cui è stato definito diritto sui generis e sulle banche dati. Non è un'invenzione italiana, è una definizione che abbiamo in tutta Europa, perché questo diritto nasce in una direttiva europea del 1996 che poi appunto ha portato a tutti gli stati membri dell'Unione Europea ad avere questa forma di tutela. Ok, quindi qua ho semplificato molto e vi assicuro che la parte sulla tutela dei dati e su come funziona il diritto sui generis è davvero una delle parti più complicate della mia materia. In un'ora e mezza è impossibile riuscire a trattarla in modo completo e quindi proprio su questo per adesso vi chiedo di accontentarvi di questa versione semplificata. se qualcuno vuole approfondire, perché appunto vuole fare la tesi su cose simili, c'è una mia video lezione di 4 ore, quasi 3 ore, che approfondisce e spiega bene come funziona questo diritto. Però ecco, l'importante è che voi abbiate chiaro che il diritto si crea non tanto sul singolo dato, ma sul dato in quanto organizzato, quindi in forma di banca dati, e quindi non è l'orario, cioè il fatto che l'autobus passa alle 14.32 in via Garibaldi, ma tutto, lo so, il dataset o il database di tutti gli orari degli autobus e dell'ATM. Quella roba lì, ecco, è un database che ha richiesto anche un rilevante investimento per realizzarlo, perché devi raccogliere tutte le fermate, sapere di preciso fare una misurazione di previsione dei tempi, sapere quando l'autobus passa lì, sapere se il semaforo è rosso, quanto ti può cambiare la previsione, e via dicendo. Quindi questo richiede un rilevante investimento, e il rilevante investimento è il requisito che fa scattare l'acquisizione di questo diritto sui generis e sulle banche dati, e viene dato anche agli enti pubblici, cioè questo diritto viene riconosciuto anche agli enti pubblici, cosa discutibile da un punto di vista anche filosofico ed economico, perché potremmo stare qua a discutere per ore, se una pubblica amministrazione fa davvero un investimento, cioè il comune di Milano o la regione Lombardia stanno facendo un investimento, in senso puramente finanziario e economico, per realizzare questo database, oppure quello è un loro compito istituzionale, cioè loro non possono scegliere di non farlo, cioè io, non so, comune di o società municipalizzata pubblica che gestisce i mezzi di trasporto, non posso esibermi da esporre uno stradario, scusate, una tabella con gli orari, perché sennò la gente non può prendere gli autobus, e addirittura quel mio lavoro è stato pagato con fondi pubblici. Quindi si può davvero parlare di investimento, e lì lascio un punto di domanda immenso, che forse per voi studenti sembra una cosa di semplice soluzione, ma va a toccare davvero delle questioni politiche delicate, non da poco, perché se riuscissimo a dimostrare che questo investimento non c'è, cade tutto il discorso sui dati pubblici e diventano automaticamente liberi, però ecco, non voglio mettervi in testa cose strane, per ora consideriamo che questo copyright strano che abbiamo chiamato diritto sui generis viene attribuito anche agli enti pubblici, e quindi si pone tutto il problema del riutilizzo di questi dati da parte dei cittadini, in quali termini?